Ciao a tutti e ora a tutti. Oggi è un altro bellissimo giorno per fare un video di make-up tutorial. Mi piacerebbe presentarvi un prodotto che ho trovato per mercato Panorama, negozi Panorama, la catena Panorama, e spero che Panorama sia in tutta Italia e che questo prodotto sia accessibile a tutti voi. Si tratta del marchio Eat It Style, un marchio completamente italiano, prende quasi un prodotto per il make-up e anche pennelli. Questa pallettina, che secondo me è tutto necessario per portarsi dietro in qualsiasi avvenienza per dare un look completo, mi è costata solo 12 euro. Guardate la bellezza. Capito i colori? La gamma di colori è l'accelta altissima che avete. E su questo si basterà questo video tutorial, come applica, come funziona i colori, e a seconda della loro qualità, che secondo me è molto molto buona. E niente, a voi Eat It Style. come primer per il viso, perché è appiccicoso questo, ha l'acqua di cocco. Come matissante del mio concealer, per preparare la mia tela, per cui dipingere, come questo, come primo colore, questo. Secondo colore, questo l'ho già messo. Adesso come terzo colore metteremo questo qui, questo. Qui ho già applicato il terzo colore, che è questo cioccolato qua. C'è una cosa da dire, questi due colori. Questo qui e questo. Applicati dopo questo non prendono tanto. Come dice la palette, è uno smoky natural, molto natural. Bellissimi colori, ma alcuni devi applicarli tanto, a volte senza sbattere il pennello. Quindi caricare bene il pennello e applicarlo direttamente. Voglio usare i colori metallici. La mia tecnica di sempre, bagnare il pennello e darci bene. Ci siamo con il dorato? E' verissimo. Secondo colore metallico? Nero da 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 Nella parte, regiazade. rosa sopra quello nero. Eyeliner nero sempre Deborah Milano e eyeliner rosa Kate Bondi e nel color Santa Sangre che quello andrà nelle labbra. Better Than Sex Mascara by Too Faced Fulets Cover Ash Golden Beige Zero Auto Concealer Cover Ash Total by NYX in the color GCC03 Beige Liquid Illuminator Born to Blow by NYX Contouring my MAC and this one right here, right here on my cheeks, yes, that, go up, here we can go a little more dark today, yes. Studio MAC Fix Fix in NC35 Bronzer, sempre di Rimmel London, Sun Shimmer Maxi Bronzer, and in color 006 Warm Up. Santa Sangre on my lips. Passiamo la palette di Contouring di NYX. Per oscurire questa parte dell'occhio, per renderlo più smoky, voglio usare questo, questo, questo e magari anche un po' di nero. Sono ricreduto, non mi piace questo rosso, perché vuol dire... E... Usterò solo questo, questo cioccolatino lì, mi è piaciuto un casino, questo... quello lì. lì. E quindi, secondo me la matita nera già sotto l'occhio, vado a prendere un altro pennellino, no, magari lo stesso, prendo un po' di nero... e andiamo a avvicinarsi davvero molto, molto, molto a... lì dove c'è... dove c'è già la matita... andiamo a sfumare il colore... con la matita... e così... che all'improvviso... velocemente... una diventa spagnola! E questo è il look finale per la palette E.T. Style. Come vi dicevo è una palette che ha una qualità fighissima, costa pochissimo, pochissimo, 12,15 euro. Una qualità, una scelta di colori davvero impressionante da portarsi in pochette. Guardate l'espessore. è una figata. È un look molto naturale, logicamente, io la drag queen lo trasformo in questo. E niente, io ve la consiglio, ardentemente, a me è piaciuto un casino. Io quanto mi sento bella... Sì, lo so, guardate che casino che mi lascio dietro ogni volta. non è piaciuto un casino. Ma... Immaginate il caldo, no? E poi... andare... E poi... 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 E poi...